Chi schiero io oggi al fantacalcio di Starks, giornata numero 17. Starks è l'exchange dove compri e vendi le valute ufficiali dei giocatori con tanto di licenza. Puoi farci un guadagno direttamente dalla compravendita, ma in più e soprattutto c'è un gioco. Noi ragazzi siamo appassionati di fantacalcio e vogliamo giocare a un gioco come il fantacalcio. Tra l'altro, promo esclusiva di Natale al tuo primo deposito ti danno 30 euro bonus. Primo deposito che deve essere almeno di 20 euro, cioè hai già un guadagno del 150% subito. Ovviamente se passi da questo link. Andiamo a schierare insieme alla mia formazione. Ti dico già che il miglior attaccante da schierare oggi sarebbe Ciro Immobile. E il miglior centrocampista probabilmente non è Strefezza, ma il buon Rovella New Entry. Tra l'altro quasi quasi finito, ce ne sono 200k ancora da comprare e ti converebbe prenderlo. Purtroppo Ciro Immobile non ce l'ho, quindi io in attacco punterò su Colombo. Cioè l'alternativa era Gonzales, ma mi torna l'anno prossimo e con calma. Sicuramente non schiererò Strefezza. C'è una piccola variazione di regolamento, che per me è una miglioria assurda. Praticamente di ogni giocatore devi averne schierato almeno il 12,5%. È una miglioria perché si era arrivati a schierare magari l'80% di buongiorno e il resto sparso nei vari giocatori. In questo modo avremo punteggi più vari. Quindi parto col mettere tutto il buongiorno che posso, poi dopo vado a scalare per entrare nelle percentuali giuste. Porto al massimo anche Colombo, poi vediamo. Vedi che comunque adesso ho sbilanciato perché Colombo ce l'ho al 7% e invece buongiorno al 70%. Adesso tiriamo su anche gli altri. Intanto togliamo Strefezza e mettiamo Rovella. Rovella lo porto al massimo e penso di lasciarlo al massimo comunque anche dopo. Magari poi varierò Colombo, comunque in realtà dovrò scalare un po' a buongiorno. In questo istante ho un Rovella al 19, un Buongiorno al 57 e un Colombo al 5. Aumentiamo Mancini. Portandolo al mio massimo arrivo a schierarne il 16% adesso e c'è da eliminare quel Lovato. Penso di mettere Calafiori al netto del mio dubbio che posso giocare stasera in Coppa e magari riposare in campionato. Al limite varierò poi la formazione. Tu vedrai questo video più in là ma questo video l'ho girato di mercoledì. Confermando anche col massimo di Calafiori io mi ritrovo con un Buongiorno che mi copia il 51% di rosa. Rovella, Mancini ne hanno 17, vanno bene. Però c'ho Colombo e Calafiori che vedi sono al 7 e al 5. Quindi devo calare per forza di cose un po' Mancini, un po' Buongiorno. Callo Mancini per portarlo intorno al 12, qualcosa che poi dopo si alzerà quando abbasserò Buongiorno. Colombo mi rimane sul 5. Inizio a cavare un po' di Buongiorno anche se questo mi porterà a non poter partecipare al torneo livello 3 ma abbassarmi al 2. Portandolo a meno della metà dei miei token di Buongiorno succede che mi si alzano gli altri giocatori. Per cui Colombo è arrivato poi all'8, non a sta percentuale folle. Calafiori me lo segna all'11,8. Adesso inizio a calare un po' Rovella. Lo portiamo al 12,6. È quasi bilanciato ma devo arrivare a quel 12,5 con Colombo. Quindi giù Mancini. Ora, momentaneamente lascio la formazione messa così con un Buongiorno al 48 e tutti gli altri intorno al 12,5. Però, se guardi là in alto il valore della mia rosa così è 12.400 STK. Quando avrei una rosa di un valore molto superiore. A questo punto sono quasi costretto a comprare degli altri Colombo per poter schierare a un livello più alto. Perché così vado a schierare al torneo livello 1. Quindi passi a giocare al livello 2 però al livello 1 mi scoccia. I premi sono più bassi. Prendiamo la solita strategia 3-1-1 che ho già comprato in abbondanza. Conferma e gioca. E qui la mia squadra è salvata. Come ti ho detto probabilmente caricherò ancora il valore della mia squadra per cui per ora aspetto a scegliere qua. Voglio farti vedere una figata. Guarda qui i miei crediti. Ne ho 104.000. Quindi il controvalore dei crediti più o meno sta a 1.000 crediti 1 euro. Perché ho questi crediti? Perché ho vinto due premi nei tornei bisettimanali. Infatti una volta sono arrivato diciottesimo quindi non premissimo nel torneo a livello 2 ho vinto 20 euro. E una volta sono arrivato sesto e ne ho vinti 80 di euro. L'ultimo torneo mi è andato male perché me lo sono giocato a livello 3 e insomma mi è andata male. Però ti posso dire che il mio amico Ricosta si è portato a casa 250 euro. Entra su Starks passando al link in descrizione avrai per te in omaggio 30 euro al primo deposito. primo deposito che deve essere almeno di 20 euro e con cui puoi farti tranquillamente una squadra in grado di competere almeno al torneo livello 1. Dimenticavo io sono Michele, ti aiuto al fantacalcio e ti aiuto a vincere su Starks. Per cui seguimi per non perderti nessuno dei miei prossimi consigli e lascia un bel like scaccia sfiga. Per cui seguimi per non perderti nessuna cosa, il nostro corso è un bel like scaccia sfiga. Grazie a tutti.